lezione 19 verbi di movimento verbo andare 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 è il verbo irregolare da imparare a memoria io vado tu vai lui va lei va noi andiamo voi andate loro vanno vediamo gli esempi io vado a casa io vado io vado a casa noi non andiamo alla festa noi non andiamo noi non andiamo alla festa quando vai a letto tu vai quando vai a letto loro vanno a scuola a piedi loro vanno loro vanno a scuola a piedi voi andate al concerto? voi andate voi andate al concerto? loro vanno a scuola a piedi voi andate al concerto? andare io vado tu vai lui va lei va noi andiamo voi andate loro vanno venire venire è il verbo irregolare io vengo tu vieni lui vieni lui vieni lui vieni lei vieni noi vieni noi vieni voi venite loro vengono io vieni io vengo tu vieni lui vieni lì voi vieni noi vieni tu vieni lui vieni voi io vieni tu vieni tu vieni lui vieni lui vieni la LORO VENGONO Io vengo da Bari Io vengo Io vengo da Bari Vieni con noi? Tu vieni Vieni con noi? Noi veniamo più tardi Noi veniamo Noi veniamo più tardi Io non vengo stasera Io non vengo Io non vengo stasera Perché non vieni con noi? Tu non vieni Perché non vieni con noi? Io vengo da Bari Vieni con noi? Noi veniamo più tardi Io non vengo stasera Perché non vieni con noi? Venire Io vengo Tu vieni Tu vieni Lui viene Lei viene Noi veniamo Voi venite LORO VENGONO TORNARE 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 è il verbo regolare Io torno Io torno Tu torni Lui torna Lui torna Lei torna Noi torniamo Voi torniamo Voi torniamo Voi tornate Loro tornano Loro tornano Io torno alle 6 Io torno Io torno alle 6 Torni con la macchina? Tu torni 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 con la macchina? Noi torniamo giovedì Noi torniamo Noi torniamo Noi torniamo giovedì Io non torno in Italia Io non torno Io non torno in Italia Io non torno in Italia Quando torni dalle vacanze? Tu torni 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 Quando torni dalle vacanze? TORNI Io torno alle 6 TORNI con la macchina? Noi torniamo giovedì TORNI Io non torno in Italia Io non torno in Italia Quando torni dalle vacanze? TORNI Verbo tornare Io torno Io non torno Io non torno Tu torni Tu torni Lui torna Lui torna Lei torna Lei torna Noi torniamo Voi tornate Loro tornare Loro tornano Loro tornano Arrivare 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 è il verbo regolare Io arrivo Io arrivo Tu arrivi Lui arriva Lui arriva Lei arriva Noi arriviamo Voi arrivate Loro Lui arriva Lei arriva Noi arriviamo Voi arrivate Loro arrivano Io arrivo in ritardo Io arrivo Io arrivo in ritardo Arrivi presto stasera? Tu arrivi Arrivi presto stasera? A che ora arrivi? Tu arrivi A che ora arrivi? Pietro arriva alle tre Pietro arriva Pietro arriva alle tre Quando arrivi e preparo la cena Tu arrivi Quando arrivi e preparo la cena? Io arrivo in ritardo Arrivare Arrivi presto stasera? A che ora arrivi? Pietro arriva alle tre Quando arrivi e preparo la cena? Arrivare Io arrivo Tu arrivi Lui arriva Lui arriva Lei arriva Noi arriviamo Voi arrivate Loro arrivano? Loro arrivano Partire 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 è il verbo regolare Io parto Io parto Io parto Io parto Tu parti Tu parti Lui parte Lui parte Lei parte Noi partiamo Noi partiamo Voi partite Loro partono Io parto per Milano Io parto Io parto per Milano Partite insieme Partite insieme Voi partite Partite insieme Leonardo parte alle otto di sera Leonardo parte Leonardo parte alle otto di sera A che ora parti? Tu parti A che ora parti? Non ho voglia di partire Partire è il verbo in infinito Non ho voglia di partire Non ho voglia di partire Partire Io parto Tu parti Lui parte Lui parte Lei parte Noi partiamo Noi partiamo Voi partite Loro partono Uscire 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 E' il verbo Irregolare Io esco Tu esci Lui esce Lei esce Noi esce Noi usciamo Noi usciamo Voi uscite Noi usciamo Loro escano Loro escano Io esco Tu esci Lui esce Lei esce Lei esce Lei esce Lei esce Noi usciamo Noi usciamo Voi uscite Loro escano Loro escano Esci stasera Esci stasera Tu esci Esci stasera A che ora uscite? Voi uscite A che ora uscite? A che ora uscite? Cristina non esce mai Cristina non esce Cristina non esce mai Teresa esce con Luca Teresa esce Teresa esce Teresa esce con Luca Io esco Io esco fra poco Io esco fra poco Esci stasera? Esci stasera? A che ora uscite? Cristina non esce mai Teresa esce con Luca Teresa esce con Luca Teresa esce con Luca Uscire Io esco Tu esci Tu esci Lui esce Lei esce Noi usciamo Noi usciamo Voi uscite Loro escono Entrare Entrare è il verbo regolare Io entro Io entro Tu entri Lui entra Lei entra Noi entriamo Voi entrate Voi entri Voi entri Voi entra Lei entra Lei entra Lei entra Noi entriamo Noi entriamo Voi entrate Voi entrate Loro entrano Posso entrare? Entrare è il verbo in infinito Posso entrare Posso entrare? I ragazzi entrano in classe I ragazzi entrano I ragazzi entrano I ragazzi entrano in classe A che ora entri in ufficio? Tu entri A che ora entri in ufficio? Marco entra in camera Marco entra Marco entra in camera Perché non entri? Tu non entri Perché non entri? Posso entrare? I ragazzi entrano in classe. A che ora entri in ufficio? Marco entra in camera. Perché non entri? Entrare. Io entro. Tu entri. Lui entra. Lei entra. Noi entriamo. Voi entrate. Loro entrano. Amici. Imparate bene i verbi di movimento. Vi aspetto alla prossima lezione. Mi piacere. Mi piacere. E' piccolo è tutto. Bisac见. Flipare con la prossima lezione. ti piacere.